Oggi prepariamo una pizza contemporanea fatta in casa con una ricetta facilissima, andiamo! Per questa ricetta non c'è bisogno di nessun tipo di attrezzatura, abbiamo soltanto le nostre mani e una tecnica speciale, il prefermento biga. Non vi spaventate, il prefermento biga è un impasto semplicissimo che va fatto il giorno prima di fare il nostro impasto. Ok, parliamo in parole semplicissime. Se il sabato dobbiamo fare la pizza in casa, il venerdì sera dobbiamo prefermentare una parte della farina. La nostra ricetta di oggi prevede il totale di 500 grammi di farina. Io cosa faccio? Il giorno prima prendo la metà della mia farina della ricetta e la vado a prefermentare. In quale modo? Quindi preparazione del prefermento. 250 grammi di farina, un grammo e mezzo di lievito secco del mulino caputo, se non avete il lievito secco va benissimo anche il lievito fresco, e abbiamo 110 grammi di acqua fredda. Quindi con questi tre elementi andiamo a preparare il prefermento, che sarà il 50% del nostro impasto. Andiamo, prepariamolo. Prendiamo il lievito secco e lo sciogliamo all'interno della nostra acqua, in questo modo, molto semplicemente. Il prefermento viene usato perché così avremo dopo la pizza come la faccio io in pizzeria, quella leggerissima, fragrante e con il cornicione alto e alveolato. Ma questo lo vedrete dopo. Sciogliamo bene 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 il lievito secco. Preparazione della biga, niente di complicato. Farina e andiamo a versare tutta l'acqua. Adesso bisogna essere scrupolosi perché il prefermento va impastato delicatamente, ma non c'è niente di così complicato da fare. L'importante è soltanto amalgamare acqua e farina, con un cucciaio o se volete direttamente con le mani. Ovviamente l'obiettivo di questa preparazione non è quello di avere un impasto liscio ed omogeneo, ma soltanto di far compattare tutti gli ingredienti. Adesso che l'acqua è stata quasi assorbita, io vado a lavorarlo con le mani. Ma come vedete l'acqua era poca perché è il 44%, quindi bisogna fare un po' di forza. Non vi preoccupate che non create nessun problema se comincia a lavorarsi un po' l'impasto. Ecco qui. Potete anche staccarvi dalla vostra scodella e lavorarlo con le mani. Ovviamente avete sentito tanti tutorial, il prefermento non va impastato, va semplicemente lavorato in questo modo. e poi non vi preoccupate perché dopo vi faccio vedere un passaggio fondamentale. Preparare il prefermento biga? Preparare il prefermento è molto molto semplice, ci vogliono davvero tre minuti. Ecco qua. Una volta che tutta la farina è stata assorbita in questo modo, prendiamo di nuovo la scodella di prima, andiamo a spezzarlo con le mani, in questo modo. Ecco qua. Questo è il nostro prefermento. Quindi semplicemente ho preso metà della farina della ricetta totale e l'ho prefermentata con acqua e lievito. Adesso questa verrà coperta con la pellicola o con un piatto e messa in frigo fino a domani. Quindi la nostra tabella di marcia è impastiamo il sabato alle 20? Il venerdì alle 20 prepariamo il nostro prefermento. A domani. Dopo 20 barra 21 ore in frigo, perché vi ricordo che il prefermento è stato preparato ieri alle ore 20, è pronto per essere utilizzato. Ce ne accorgiamo perché è morbido e spugnoso ed ha un profumo dolce. Ora cosa bisogna fare? Praticamente bisogna spezzettarlo così con un coltello. Io lo faccio più o meno la grandezza di uno gnocco. Perché? Perché così lo vado a lavorare a mano e lo vado a mettere all'interno della farina restante della nostra ricetta. Quindi all'interno di 250 grammi di farina. Adesso siamo pronti per impastare. Versiamo tutto così all'interno. I nostri 500 grammi di farina, compresi tra prefermento e farina fresca da dover scomporre. Facciamo a versare sopra dell'acqua. Ovviamente quest'acqua ci porterà ad avere nella nostra ricetta un'idratazione del 70% totale. Cominciamo ad impastare delicatamente. Ovviamente questi passaggi sono perfetti per chi vuole impastare una pizza contemporanea, la mia pizza contemporanea, quella di Vincenzo Capuano, in casa senza l'utilizzo di un'impastatrice. Ma semplicemente con l'aiuto delle nostre mani. Man mano che impastiamo, automaticamente questo impasto ci richiamerà un po' di acqua e noi l'aggiungeremo. Ovviamente aggiungiamola in modo delicato, cerchiamo di non essere troppo irruenti, altrimenti potrebbe scomporsi l'impasto e questo potrebbe creare dei problemi. Visto che lavoriamo a mano, è meglio aggiungere l'acqua delicatamente. Vi ricordo che stiamo facendo così un 70% a mano. È arrivato il momento di mettere il sale, lo capisco perché è rimasta poca acqua, altrimenti dopo non potremmo scioglierlo. Adesso lavoriamo in modo energico. Le farine utilizzate per questo impasto sono le farine del mulino caputo. Ho utilizzato la nuvola come rinfresco e per fare il prefermento la manitoba oro. Ora che tutti gli ingredienti si sono amalgamati, ma l'impasto non è ancora liscio e omogeneo, andiamo a versarlo in una scodella, come in questo caso. Vedete? E visto che utilizziamo soltanto le nostre mani, l'unico modo per farlo compattare è quello di utilizzare il tempo e il freddo. Quindi la metteremo in frigo per 15 minuti. Faremo delle pause, al massimo tre pause di 15 minuti, per compattare questo impasto. Quindi mettiamolo in frigo a tra poco. Trascorso il nostro tempo in frigo, vediamo che l'impasto già comincia a farsi lavorare in modo completamente diverso ed è molto, molto più compatto. Ovviamente a casa vi consiglio che se avete problemi e non avete la mia stessa manualità, potete fare un'ulteriore pausa di 15 minuti per un massimo di tre pause. Andiamo a dargli un'ultima lavorata qui sul banco, in questo modo, fin quando non diventerà liscio ed omogeneo. Appena il nostro impasto sarà compattato, liscio ed omogeneo, siamo pronti per fare i panetti. Io li faccio di 280 grammi, però mi aiuto sempre con una bilancia. Da questa ricetta usciranno fuori due panetti da 280-290 grammi e poi avanzerà questo piccolo pezzettino d'impasto che possiamo sempre sistemare e fare una pizza un po' più piccolina. Adesso lasciamo questi panetti lievitare fino al raddoppio del loro volume. Non vi preoccupate che si rilasseranno, ma allo stesso tempo aumenteranno il loro volume. Una volta quindi chiuso il prefermento, prefermento, impastiamo, completiamo, lisciamo tutto l'impasto, lo facciamo in panetti e lo facciamo raddoppiare. Sono questi i nostri passaggi per avere in casa una pizza contemporanea. Appena il panetto sarà raddoppiato di volume, utilizziamo della semola e siamo pronti alla stesura. Molto molto semplice, andiamo soltanto al centro, così ad allargarlo un po', poi lo giriamo. Ecco fatto. Il nostro panetto è steso. Togliamo la farina in eccesso, altrimenti ce la ritroveremo in forno e la pizza sotta sarà arancione, quindi amara e bruciata. Andiamo a condire. In questo caso ho scelto di fare la pizza che mi ha fatto vincere il mondiale a Napoli come campione del mondo di pizza contemporanea. Un bel cucciaio di pomodoro San Marzano schiacciato a mano, in questo modo, due pomodorini datterini fatti a rosto, ecco qui, un po' di basilico di Napoli, pepe, per completare, un po' di provola affumicata. Adesso andiamo in forno. Ovviamente io utilizzo un forno Oni Koda che per me è il miglior forno al mondo per fare la pizza contemporanea in casa. Oh, eccola qui. La mia pizza contemporanea in casa come in pizzeria. Adesso andiamo alla prova del taglio. Un filo d'olio in uscita, ecco qui, e adesso con le mie forbici oro farò la prova del taglio della mia pizza contemporanea fatta in casa con questa ricetta senza impastatrice fatta a mano. Ok. Adesso, ahimè, questo è l'assaggio della mia pizza napoletana contemporanea. Si scioglie in bocca. Ragazzi, con questa ricetta e questo assaggio vi saluto, mi raccomando, seguitemi sui miei canali social, lasciate un commento e vivere di pizza fatta in casa è meraviglioso.